Musica Musica Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Cristo, l'amore di Dio Padre e l'amore dello Spirito Santo, che siano con tutti voi. E' il Signore che ci chiama alla vita, è il Signore che ci chiama alla vita di Sene, alla vita dei stiani, alla vita della Chiesa, ed è il Signore che ci chiama alla vita del Cielo, per stare con lui nel senso e per l'eternità. Oggi vogliamo pregare in una maniera particolare, perché Dio, parcire il misericordioso, spararci a cannelli le porte del canale di Sene. Vogliamo dire al Signore misericordioso di manifestare la sua misericordia anche per Dio. Vogliamo riconoscerci tutti i fragili, tutti i deroghi, tutti i decenni, tutti i decenni. E diciamo, confesso. La Dio' di Dio, il Torrente, che arrivano i perventi di Salve, che ammoro dankaku e che ha dimensi gorgo, che ha clownci, per la mia volta, mia volta, che è la Deus usata. Chiesa, Gesù, grazie a tutti, grazie a tutti e a tutti. Grazie 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 a tutti. Gesù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché? questa morte. perché? il perché? non è? perché? noi? dobbiamo fidanzi. noi? e quindi, giù uomo e li accrediti come un olocausto. Ogni persona dà l'enorme mente e preziosa del risultato. E la nostra fede ci dice che anche Gennaro era preziosa. Dà l'enorme mente. Il nostro cuore è pieno di tristezza, perché non è più in mezzo a noi. Ma il nostro cuore sa che il Signore l'ha venuta con sé, perché è preziosa ai suoi occhi. Dice la liturgia che noi stiamo celebrando a un certo punto, lo sentiremo, questa assemblea è radunata nella tristezza, nell'impianto. Ma questa stessa assemblea un giorno si ritroverà della gioia e potrà godere di uomo della preferenza, della vicinanza di Gennaro per sempre e per l'eternità. C'è una tristezza che si trasformerà in gioia. Siamo tristi perché non è più in mezzo a noi. Ma la fede ci dice che il Signore la punta con sé. Se tutto finisse in una dara, se tutto finisse in una tomba, non avrebbe più in mezzo a mezzo. Questa nostra premiera, questo nostro ritrovatici attorno alla generale. Ma non sappiamo la vicinanza di Gesù. Gesù è rivolto ed è risolto. E tutti quelli che credono nel Signore nascono con il Signore, dicono con il Signore, soffrono con il Signore. La fede di Armelina è stata toccata tra una sofferenza grande, tra un dolore e un dolore. Si nasce con il Signore, si vive con il Signore, si soffre con il Signore e si risolve con il Signore. Quando i due discepoli andavano via, tristi da Gesù sarebbero, Gesù in persona, risolto, vivente, e si fanno un compagno di viaggio. Così c'era il vostro cuore, perché si vengono e si vengono. E loro raccontano che con Gesù, sull'Ambrogia, era stata crocefissata ogni loro speranza, ogni loro fiducia. E se ne andavano via, tristi da Gesù sarebbe. E Gesù a un certo punto dice, ma non bisognava che il figlio dell'uomo sopportasse tutto questo per entrare nella gloria. La sofferenza è di passaggio. La morte è di passaggio. La parola ultima è della gloria. La parola ultima è della vita senza fine. L'amore, dice la serva scrittura, è più fonte dell'amore. Ecco, noi dobbiamo ascoltare questa morte con l'amore, con l'amore. Come vuoi andare avanti a dominare la propria scrittura? Come vuoi? Soltanto con una fede grande. Soltanto con un amore grande. Signore, aumenta la vostra fede. Signore, aumenta il nostro amore. Signore, come dobbiamo vivere. Come carterine ci potrebbero vedere. Pieni di forza. Pronti ad ascoltare tutte le vostre. Guardi, se ci lasciamo andare. Guardi, se pensassimo soltanto che questa vita non ha più senso. Dobbiamo ascoltare tutto con forza, con energia, con quella forza che ci può venire solo dalla risurrezione di Gesù. Con quell'energia che ci può venire soltanto dalla risurrezione di Gesù. Non ci sono errori da poter vivere in questo momento. C'è soltanto da avere lo stesso atteggiamento di Gesù. L'abbiamo sentito, l'abbiamo visto lì, alla morte dell'anno. Si commuove profondamente, piangono. E tutti devono in Gesù piangere. Dio, guarda, come io ho detto. Che il nostro pianto sia segno del nostro amore, segno del nostro aspetto. Che il nostro pianto diventa diventi forza, diventi vita, diventi amore. L'amore è più forte della morte. La vita va soltanto per quanto abbiamo e per quale sia uguale. Porteremo con lui in cielo soltanto del nostro amore. Ecco, noi oggi diciamo adesso al Signore. Signore, ti presentiamo la vostra sorrita ventolina con tutte le sue nuove le belle. Tutto quel bene che lei ha diventato in questa vita, con giovia, con entusiasmo, con generosità, con altruismo, pensando agli altri, signori, signori, predietro, fatto, a te. Perché ti presentiamo. Tutto quello che avete fatto al mio piccolo e mese dell'inno, l'avete fatto a te. E in questa stessa celebrazione vogliamo chiedere al Signore tanta forza, tanta consolazione. Per chi ha amato. Per chi ha apprezzato. chi ha più amato. Carmeline ha più presente il mondo in questo momento, la mancanza, il tuo operante. Signore, riempi questo futuro con la tua presenza, con la tua forza, con il tuo amore. Signore, facci sentire che siamo amati da te, anche se siamo toccati dal dolore, anche se siamo toccati dalla sofferenza, anche se siamo toccati dal dolore. Signore, donaci di sperimentare sempre che tu ci ami, che tu non ci lasci mai risolvere. Nel momento del dolore, donaci, Signore, di sottolineare la tua presenza, che ti ha forza, che ti ha amato. E il Signore ci prega della sua consolazione, della sua forza, della sua vita. E' forte di quanto il Signore ci prega, anche amato, vivendo anche amore, nell'amore. Nel dono della propria vita. Per poterci ritrovare ritrovare il giorno alla presenza del Signore. Se noi viviamo nell'amore, nella verità, noi viviamo alla presenza di Dio. Dove il caricaio amore, lì c'è Dio. Se viviamo alla presenza del Signore in questa terra, l'amore sarà interessante. Da ritrovarci alla presenza di Dio, qua, in questa terra. Allora ritrovareci alla presenza di Dio, per sempre, per l'interno. ci mettiamo in fine. E subitiamo unicamente Dio, ragia di misericordia, per i nostri strategi che sono molti nella pace del Signore. Diciamo insieme. Noi ti perdiamo, ascoltaci. Noi ti perdiamo, ascoltaci. Nella tua puntata, Signore, perdona i loro beccati e le loro debolezze. Noi ti perdiamo, ascoltaci. Nella tua misericordia accetta le loro buone opere. Noi ti perdiamo, ascoltaci. nel tuo dirente amore. Dona a loro la misericordia. Noi ti perdiamo, ascoltaci. Preghiamo ora, anche per tutti i colori che sono introduto, per la morte di questa nostra sorella. Conforta il Signore nel loro dolore. Noi ti perdiamo, ascoltaci. Colma il tuo uomo lasciato dalla morte con la volucenza della tua presenza. Noi ti perdiamo, ascoltaci. accresci la loro sede e raffosa la loro speranza. Noi ti perdiamo, ascoltaci. E treghiamo il Signore, anche per tutti noi che stiamo benvenuti in questo mondo, donaci, Signore, la Tua consolazione. Noi non rileviamo assoltarci. Confermoci nel Tuo santo servizio. Noi non rileviamo assoltarci. Eleva i nostri cuori al desiderio delle cose del Cielo. Noi non rileviamo assoltarci. O Padre, amante della vita, il Tuo unico figlio del mistero della Pasqua è passato da questo mondo alla gloria del Tuo re. Concedi a tutti i fedeli del conti di condividere la Tua vittoria sulla morte e di dimorare sempre nel Tuo amore che vale più della vita. Per Cristo, nostro Signore. Signore, 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 signore. Signore, 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 signore. Signore, 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 signore Grazie a tutti i nostri amici. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti. 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 grazie a tutti 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 e a tutti e a tutti grazie a tutti grazie a tutti tutti grazie a 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 tutti